Ecco mister Di Costanza, allora mister una partita che ha visto una buona ischia nel primo tempo, forse meritava qualcosa in più, però nella ripresa abbiamo visto un'ischia soffrire. È così, il primo tempo è stato veramente combattuto, noi abbiamo avuto diverse possibilità di passare in vantaggio, su delle punizioni davvero bastava solo appoggiarle in porta e delle azioni veloci soprattutto del nostro cano. Il secondo tempo effettivamente noi siamo calati e comunque non abbiamo concesso quasi niente agli avversari se non un colpo di testa di Tavares su calcio d'angolo e d'altra parte abbiamo avuto una possibilità di un dubbio calcio di rigore che a detta di qualcuno dei miei dirigenti pare che ci fosse, però insomma troppo poco non c'è dubbio, però il fatto che la squadra comunque abbia mantenuto con sostanza il campo anche il secondo tempo insomma senza subire, questo già è un buon viatico verso l'obiettivo di una squadra che sappiamo benissimo si deve salvare. Mister, la condizione atletica spesso dell'ischia è andata sotto accusa, oggi pure secondo me nella ripresa sulle gambe non c'eravamo troppo. Così è vero onestamente che il campo è pesante, nonostante la bella giornata che ci ha aiutato però vi garantisco che si affonda, l'avrete notato quanto è scivolata nonostante uno scelga bene i tacchetti comunque si scivola proprio perché è un terreno molto allentato e si fa fatica. Detto questo comunque ci sarà bisogno molto di lavorare perché la condizione atletica sapete nel finale di stagione è decisiva per una squadra che si deve salvare quindi si lavorerà molto su questo perché il secondo tempo siamo un pochino calati effettivamente abbiamo concesso un pochino questo possesso palla al Messina ma come dicevo prima comunque non abbiamo poi concesso profondità, non abbiamo dato la possibilità a loro di concludere quindi insomma in questo momento va bene così, poi dopo una settimana un po' travagliata in cui qualche allenamento è saltato devo dire che la squadra ha mantenuto e siamo comunque contenti a tre quarti diciamo dai. Siamo anche in collegamento diretto con Messina, un suo giudizio su questo Messina che l'ha allenato qualche mese fa? Beh sì certo, forse inizialmente sono stati fatti dei risultati straordinari che magari hanno illuso qualcuno ma il campionato del Messina invece è questo qui, è un campionato buono in cui non si può essere competitivi ai massimi livelli perché ci sono squadre come il Lecce, il Benevento, la Casertana e qualcun'altra, lo stesso Materno, insomma ci sono quelle 4-5 squadre che hanno qualcosa in più, il Foggia ma il Messina sta facendo un ottimo campionato, oggi è venuto a fare una buona partita non gli abbiamo concesso niente ma diciamo come possesso palla è stata superiore a noi penso che non avrà problemi a salvarsi tranquillamente, a fare questo buon campionato a continuare a fare questo, ma poi chissà magari se riescono a mantenersi a una certa distanza ai play-off può darsi che ritorna quel momento favorevole che c'è stato inizio anni addirittura possono ambire ai play-off ma comunque già quello che stanno facendo è un ottimo lavoro Bisogna muoversi sul calciomercato però adesso con Martina Franca non ci sarà il canote Eh sì, purtroppo ha subito una munizione veramente banale che ci priverà di questo giocatore che è ispirato e vabbè insomma faremo di necessità virtù comunque ho già parlato con i ragazzi che oggi è stato un primo passo in cui la squadra ha dimostrato di comunque voler lottare, di giocare come la squadra che si deve salvare con grande attenzione e domenica però bisogna continuare questo percorso sapendo che c'è veramente una squadra di fronte che è una diretta concorrente quindi faremo a meno di canote ma magari recuperiamo qualcun altro intanto ci sarà almeno potrebbe esserci finalmente di vicino e chissà magari qualcun altro ancora perché questa settimana sapete che è una settimana particolare di fine calciomercato quindi intanto che si è creato questo spirito di gruppo nonostante un po' una settimana travagliata secondo me è un fatto molto positivo che ci fa ben sperare a partire dalla prossima trasferta che giochiamo contro una squadra dove bisogna far punti grazie 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 a tutti